è nel mondo uno che di mestiere trova le parole giuste che li sa mettere in un modo che quando gli batte il cuore a lui gli fa battere il cuore anche a quell'altro non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione saluti in poesia di Agnese Monaco grazie al drago per la linea qui nel rock my show con Agnuno mi voglio lasciare senza piatto e dunque mi leggerò la poesia con l'omonimo titolo senza piatto bacilla l'anima chissà quale pezzo di cuore hai custodito in te respirando l'abbraccio in una fotografia di infinito e macchini caffè questo domani bugie come schiave di lanterne troppo fioche aspettano il vero adolescente d'emozione bacilli in ambiguità sottili tra immagini imprevedibili come lucciola altigiane del futuro che sprechi in emozioni nuove divorami nel freddo in inverni gracili trascinandomi senza andare via pensando all'odio che logora ammazzoniamoci all'obbligo di sogni sterili e vivremo in un 1-1-6 e qui senza fiato tutto annunciato pensato in poesia ho letto questa che fa parte del libro la sintesi di me stessa poter acquistare un po' ovunque e mi ricordo che parte del ricavato della vendita sarà devoluto alla smile house fondazione che si occupa di numerare bambini nati con transformazione al volto in Italia e all'estero altra cosa che voglio dirvi è che fino al 10 corrente mese potrete inviare gratuitamente due poesie edite o inedite come volete basta che siano vostre a mondialepoesiachiocciolangemail.com per partecipare alla giornata mondiale della poesia 100.000 poeta spone il cambio 100.000 poeta for change a fine settembre starete con me e maniposa dell'osio in diretta a leggere le vostre poesie con artisti di tutto il mondo i miei contatti invece sono Agnese Monaco Official su facebook su instagram Monaco Agnese su youtube Holly Agnese e su tiktok Agnese Monaco 1 e io vi aspetto alla prossima settimana ciao